e oggi siamo qui per fare un altro video di prova a non vomitare e lui già sta vomitando ho capito ma guarda che cazzo e non è un cazzo non c'è più bene ragazzi e siamo qui siamo tornati siamo oggi con questa nuova challenge ovvero prova a non vomitare dai fatti vedere ma baffanculo fatti vedere la telecamera lui è pronto no che si vede là e non romper cazzo dammi il cappello ma chi te sei in culo dammi il cappello ma chi te sei in culo oh ti rimprovero si rimpro a me sta minchia allora siamo pronti a fare questo grandissimo video e guardare questi due video ci avete consigliato sotto nei commenti cock chopper non li di e two kids one sandbox che già dai nomi boh two kids one sandbox me intriga come nome cock chopper cock chopper è della saga dei pain olympics in pratica ah che culo perchè infatti è bene bm e pain olympics wow bello però la sfida sarà non vomitare rimanere a vederlo non ti puoi mettere che i mani davanti non mi metto che i mani davanti non lo so oh no 18 secondi cioè si vai vai ah cazzo cioè in pratica se qui un coltello lo tagli a metà ma gli hanno detto che non è un cetriolo no 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 Sei pronto? Sempre sta musichetta molto metal Ah, ma in pratica se l'hai insaccato Cioè, se hai messo il filo In mezzo alle palle Poi l'hai fatto tipo insaccato Cioè, praticamente i salami con li appesi così No, no, oddio con l'ascia Oddio Ha fatto la ghigliottina No, va bene Ed è la ghigliottina? Oddio Bene, tutto via Tagliate il salame Vuole un po' di salame? Vediamo che questa qua è una Sentire troppo amore Ma porco Ha fatto la frattaglia Quella l'aveva pagliata Questo fa schifo, si Questo fa un po' schifo Cos'era? Quella era proprio la pallaventura Cioè, proprio Capito? Che è? Allora, questo è un altro video che abbiamo trovato sempre nei commenti Un minuto e otto, ma sei scemo Vabbè, non sappiamo cosa si tratta Guarda, già che ci stanno quattro donne No, per me è peggio Allora, quattro girls fingerpaint Il titolo sembrerebbe che loro disegnano qualcosa Si che sono pittrici Vediamo cosa succede Cioè, si cagano a vicenda No, 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 no Dai, ho fatto a suonare Oddio, che schifo Porco Ma quanta ce n'ha, oh? No, no, no No, che schifo, no? Ma davvero Ti giuro Ma ho capito Perché fingerpainting era quella merda Quello non era specificato Voglio chiudermi dentro Stangolino Voglio più ci No, in realtà Un po' di più schifo Deve durare suoncato Almeno so due Perché praticamente cosa succede Ve la racconto Arriva una Caga su una Cioè, fa una cagata Che è sembra un serpente in realtà Ma quanta cazzo era La maniata Ok Che dopo prendono tutto con le mani E si disegnano sul corpo Tu non ci sei arrivato a vedere quel pezzo Stai in gioco umidà Però io so curioso di vedere come va a finire in realtà Io pure so curioso di vedere quanto sbratto riesco a fare in live Cioè, quindi Vogliamo finirlo? Vai, vedi, se stanno disegnando Mancano 20 secondi Ok, si disegnano sul corpo E tu devi indovinare cos'è No Oddio Dai, non vomità però Ma ha vomitato quella E non vomità pure te Non è che sei solitale Sto sentin' male Ti puoi alzare Dai, l'ho tolto No No, no, no No, no, no È finito, 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 è finito Dio No, no, che schifo No, no, ma co do, che cazzo gli ha fatto quella Guarda io non sono andato in bagno perchè se no mi davo davvero E a me non occorresca trattenirmi Ma hai mangiato prima? No Io ho mangiato Eh, io no Sei fortunato Sta a posto No Ma mi vedo una merda adesso Non pensare una merda Ecco appunto Allora ci sei? Possiamo fare un altro? Allora ragazzi come vedete Questo provoca queste reazioni Quindi non andate a vedere questi video Cioè se volete andare a vedere non abbiamo nessuna responsabilità Noi vi abbiamo avvertito Di non andare a vederli E veramente non ci andate perché sennò vi sentite male Dovete avere veramente uno stomaco forte Quindi non dovete essere niente Esatto Se questo video vi è piaciuto lasciamoci un commento per un prossimo episodio Ma cosa dico? 10.000 per vedere Xenic vomitare finalmente? Perché? No perché vengo a stomaco vuoto qua Quindi se vomito vomito acido No no vomito acido Mettiamo una bacinella e facciamo vedere proprio a forza Con l'occhio aperto così Con un po' di de no E consigliateci ovviamente qua sotto Quali video vedere per la prossima volta E niente Noi ci becchiamo al prossimo video Come sempre Dai grazie a tutto E la Vomitate in pace Ciao